Ciapi, ritirato bando per la direzione, colpevolmente incerto, il destino dell'ente. Già lo scorso maggio manifestammo attraverso una nota alla stampa tutti i dubbi per un bando che equiparava la posizione del direttore del Ciapi e quella di un dirigente regionale con relativi e onerosi emolumenti. Oggi è arrivata la conferma delle perplessità espresse con il ritiro del bando da parte della Regione. Lo dichiara l'onerevole Giovanni Caffeo, parlamentare regionale d'Italia Viva e segretario della terza commissione Ars Attività Produttive. Al di là della conferma dei dubbi espressi anche dai sindacati, il ritiro del bando non risolve certamente problemi vissuti dal Ciapi, spiega l'onerevole Caffeo, le cui difficoltà finanziarie restano gravi sia per l'anno in corso sia per il 2021, con conseguenti fosche prospettive anche per i dipendenti attualmente occupati. Resta l'assoluta mancanza, prosegue Caffeo, di visione già ampiamente dimostrata sia nella gestione dei beni culturali sia nell'approccio alle politiche industriali, oggi tanto per non farci mancare nulla, confermata anche nei confronti della formazione professionale d'eccellenza, di cui proprio il Ciapi è stato per anni un simbolo. Avendo a disposizione un ente così importante e non avere alcuna idea sul come rilanciarne l'attività significa sprecare tempo e risorse pubbliche, tanto varrebbe allora chiuderlo definitivamente, evitando il dipendente della condizione di dover mendicare ogni mese lo stipendio per portare avanti un carrozzone abbandonato. Sono tuttavia convinto che il Ciapi possa e debba tornare ad essere un ente di formazione strategico per il nostro territorio, conclude l'onorevole Caffeo. Per questo chiederò di calendarizzare al più presto il disegno di legge sulla riforma del Ciapi in Aula, rispondendo così ancora una volta per via legislativa alla mancanza di rispetto che questo Governo regionale ha nei confronti del nostro territorio.